Una stanza dedicata alle donne che vorranno denunciare episodi di violenza è stata inaugurata all'interno della Questura di Arezzo con la collaborazione del club Soroptimist di Arezzo. Si tratta di un luogo protetto realizzato all'interno delle caserme dei carabinieri o degli uffici di polizia, in questo caso dentro la Questura di Arezzo, per accogliere e ascoltare le donne e incoraggiarle a rivolgersi alle forze dell'ordine in caso di violenza, abusi e sostenerle nel delicato momento della denuncia. Non è importante, è determinante. C'è un gruppo di ragazzi, io li chiamo così e non di poliziotti, disposti ad ascoltare le vittime fragili in una stanza, ripeto, non asettica, che assomiglia ad una stanza di casa, ad un salotto di casa. Questo sarà importantissimo. Avere un ambiente dedicato e dove sentirsi accuditi, accolti, ma anche liberi di poter parlare è, come diceva il questore, indispensabile per poter far sì che le vittime e vulnerabili si sentano supportati e colgano l'importanza di questo tipo di attività, cioè il fatto di non essere da soli e di avere al proprio fianco le istituzioni. Il progetto Una stanza tutta per sé nasce a Torino nel 2014 per iniziativa del Club Soroptimist. Oggi in Italia ce ne sono oltre 200 a finanziare quella a retina, il Club Soroptimist di Arezzo. Potrebbe sembrare una cosa negativa dire sono in aumento le denunce, invece è un fatto estremamente positivo perché noi abbiamo bisogno di fare emergere. L'idea nostra è stata proprio quella di avvicinare, nel 2014 non c'era tutta questa sensibilità, di avvicinare le donne, le vittime di violenza alle istituzioni, alle forze dell'ordine per far emergere questi loro racconti. perché spesso e volentieri ci dicono che dopo una prima denuncia alcune volte tornano indietro e vogliono cancellare tutto e questo noi non lo possiamo permettere perché giustamente da un amore che può essere tossico si arriva anche a delle situazioni non solo fisiche ma anche psicologiche.